Meno tre giorni alla seconda apertura delle urne per il rinnovo dei consigli comunali di cinque comuni abruzzesi. A Roseto degli Abruzzi si sfideranno Mario Nunez, sostenuto da una coalizione civica, e William Di Marco, candidato del centrodestra. In vista del ballottaggio, nel comune del Terramano non c'è stato alcun apparentamento ufficiale. L'incognita è su Chiricadra, quel circa 50% di preferenze ottenuto dai candidati sconfitti al primo turno. Nessuna pubblica indicazione di voto da parte dei candidati Ciancaione e Ginobble, mentre il centrosinistra del sindaco uscente di Girolamo appoggerà Nunez. Ovviamente ci siamo aperti dal primo giorno ad un apparentamento con i cittadini e non con i partiti, un apparentamento fatto sui programmi, e il nostro è un programma ampio, certificato e sicuramente avvincente per la città di Roseto, un apparentamento fatto sulle persone e il mio essere persona tra le persone, come mi definiscono i miei candidati e le persone che mi sono vicine, credo che riuscirà ad attrarre molti consensi. Noi un apparentamento l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto proprio con il popolo, nel senso che nemmeno con la gente che ha un'accezione abbastanza, se vogliamo, ristretta. Invece il popolo è proprio quell'interagire con le persone e far capire in questo secondo turno i programmi, certamente, quelli che sono i progetti, certamente, ma anche chi siamo, da dove veniamo e che cosa abbiamo fatto per Roseto in passato. Entrambi i candidati sono stati premiati dal voto disgiunto. Nunes, infatti, al primo turno ha conquistato il 30,65% dei voti, mentre la sua coalizione si è fermata al 29,72%. Di Marco ha ottenuto invece il 22,13% delle preferenze, circa due punti percentuali in più della coalizione di centrodestra. Ovviamente quella differenza ci ha fatto entrare nell'ultima tornata, cioè quella, appunto, che decreterà chi sarà il sindaco per i prossimi 5 anni qui a Roseto. La presenza di 328 candidati consiglieri, 21 liste, 5 candidati sindaci ha disorientato l'elettorato, che ovviamente si è trovato ad esprimere una doppia preferenza. Quella sulla persona a lui più vicina rispetto a parentele, piuttosto che a stima, a rapporti, perché Roseto è una città ma è al tempo stesso un paese. E quella poi sul futuro, e quindi la scelta sul candidato sindaco era una scelta importante. La grande stima e la grande responsabilità che questa stima mi dà è concretizzata anche in queste quasi 600 preferenze che vanno a sommarsi alle comunque tantissime preferenze che le mie liste hanno preso. Dialogo e decoro sono le priorità, qualora fossero eletti sindaco, rispettivamente di Nunes e di Marco. La prima ordinanza che firmerò, ho detto in maniera molto, diciamo, singolare, è quella del dialogo, cioè metterci in una posizione di confronto con le opposizioni, in una posizione di apertura verso i cittadini, una posizione di apertura verso la comunità. Se proprio dovessimo scegliere qualcosa che deve partire da subito è il senso del decoro di Roseto. Noi siamo partiti da un concetto di tipo culturale. La nostra, oltretutto, la lista personale del sindaco si chiama tuttora identità culturale rosetana. È fondamentale. Se noi partiamo dal senso culturale che sviluppa il senso di bellezza non possiamo che riprendere in mano il decoro, soprattutto negli ultimi anni. Questo decoro è stato abbandonato ed è stata abbandonata soprattutto la manutenzione.